La socialità e la qualità dello stare insieme. Anche questa è una grande opera di ricostruzione in una città all'Aquila, dalle tante periferie senza più un centro. Né un esempio l'università per tutta l'età, che aprirà i battenti a febbraio fino a giugno presso il centro servizi di volontariato. L'iniziativa è dell'Auser, l'associazione per l'invecchiamento attivo. Lezione aperte a tutti però, a prescindere dall'anagrafe. Costo un euro a lezione, lezioni dedicate alla musica, al cibo, alla conoscenza del territorio, al benessere del corpo e della mente. In una parola, la qualità della vita. Abbiamo pensato che c'era bisogno di una, l'abbiamo definita così, università per tutte le età, perché c'era bisogno proprio di approfondire, di seguitare a studiare, a conoscere, a informarsi anche per le persone anziane. Quale sarà l'offerta di questa università della terza età, potremmo definirla? I costi? I tempi? Sì, dunque, l'offerta, noi abbiamo preparato un primo pacchetto di sei mesi, cioè fino a giugno, perché poi pensiamo di iniziare ovviamente a settembre, quindi sarà un'attività che speriamo riesca a durare molto tempo. Il pacchetto iniziale prevede una prima parte che si chiama benessere, cioè una serie di corsi con i quali cercheremo di parlare di una vita migliore. Poi ci sono i corsi sull'informatica, poi i corsi sul yoga e così via, insomma una serie di attività che fino a giugno, quindi sono molteplici, ci vuole molto tempo per raccontarle tutte.